Iniziamo con la nostra sessione di workshop per quanto riguarda le applicazioni Energy Storage perché questa mattina è stato presente allo speech generale abbiamo introdotto alcuni dei sistemi, sistemi per Energy Storage o grid off-grid di Socomec sistemi che chiamiamo Extend andremo oggi pomeriggio ad analizzare tre casi di studio, uno off-grid, uno on-grid e un altro in particolare sulla ricarica di veicoli elettrici e di questi poi andremo a declinare tutti gli aspetti tecnici e dove possibile anche qualche cenno economico in generale sul progetto. Parto brevissimamente con un riassunto delle ultime slide di questa mattina ovvero sistemi on-grid e Stasis Extend che includono conversione, batteria e sistema di controllo utili per tutte quelle che sono i servizi di rete sia per gli edifici che a livello un pochettino più alto per impianti utili, per regolazione di rete taglio dei bicchi, ottimizzazione delle rinnovabili chiaramente certificati per l'Italia con grid code 016 e 021 questi sistemi come si diceva questa mattina sono dei veri e propri plug-in-play ovvero l'installatore non dico l'altro che comporre i codici che i nostri progettisti mettono a disposizione della nostra produzione. Stesso discorso per quanto riguarda la categoria off-grid stesso sistema di prima con la differenza che il sistema di controllo è più avanzato ed è in grado di dare funzionalità di backup, controllo per tutto quello che è l'architettura dei microreti minimizzando quello che è il consumo di diesel o ottimizzando quella che è la gestione dei generatori e in generale assicurare l'alimentazione di qualità e autonoma della microrette si diceva sempre stamattina che tutto questo non è mera teoria o dei prototipi che l'azienda deve ancora mettere in produzione ma si tratta di impianti presenti su diversi siti mondiali prevalentemente vedete solo microreti e di questi oggi andremo ad analizzare tre siti in Europa così rimaniamo un po' vicini a casa di cui uno proprio in Italia e vedremo un'isola francese il canale dramanico, giusto? il canale dramanico, il T6 che è il primo, la prima inizia rossa è in alto a sinistra un impianto in Italia e questo è il colore celeste che richiama long grid e poi un altro impianto on grid per radicare i navigoli elettrici infatti nel pubblico per quanto riguarda l'impianto sull'isola francese vi presento il nostro collega Marc Bergerian della filiale francese che ha seguito il progetto più da vicino e ha il know-how giusto per darci delle indicazioni per quello che è tutta la parte dell'architettura di questo impianto di questa micro-rede grazie buongiorno a tutti stiamo parlando di dentro le tante isole che la Francia ha anche comune in Italia un'isola molto vicina dal continente francese che si trova di faccia la Bretagna ci sono delle isole non intercollettate non c'è una collezione elettrica con il continente e l'azienda IDF e al stesso tempo il DSU il TSEU fa la produzione, il trasporto e la distribuzione perché sono delle piccole isole e la domanda di questo cliente era di limitare di aumentare prima la produzione elettrica autonoma gestire delle fonte di generazione differente renovabili chiaramente generatore di tensione in parallelo perché chiaramente con l'arrivo dei sistemi di accumulo arriva un elemento in più sulla rete elettrica che è un nuovo tipo di generatore di tensione che non esistiva prima perché i generatori di tensione li conoscete più o meno come me c'è il trasformatore che è alimentato dalla rete e ci sono i gruppi elettrogeni fino a qui i generatori di tensione o i gruppi che si chiama gas o diesel non ce n'era più e adesso arriva sul mercato questa nuova tecnologia di tenere il sistema di accumuli che sono generatori di tensione e che devono convivere sulla stessa microrette o rete con un altro generatori di tensione che sono i più conosciuti fino ad adesso dopo c'era chiaramente la regolazione nel periodo estivale dove c'è una grande produzione del solare dove questo eccesso di produzione solare se non c'è consumo durante questo periodo della giornata non lo possiamo buttare a rete perché non c'è una rete per la quale dobbiamo regolare e dopo fare dell'ottimizzazione energetica a livello della isola lo che è interessante in questa isola è che c'era della mezza tensione non stiamo parlando solo di una isola dove c'è una distribuzione in bassa c'è su questa isola una distribuzione in mezza questa foto non è quella della isola la vedremo dopo però lo che vogliamo decidere qui è che tutte le isole che abbiamo adesso ci sono delle domande e la domanda principale è chiaro fermare lo più possibile i posti generatori diesel perché i primi quelli che stanno pagando la notte qui lo vogliono e il chiasse a 500 dollari la notte dei rubri di etrogeno per esempio ok il secondo vendono un aspetto naturale dei posti posti lontani bellissime dove chiaramente la emissione dei gas generatori per generatore di gas diesel non è molto accettabile per il cliente per esempio e lì dobbiamo garantire la disponibilità dell'energia e fare un bilanciamento costante tra consumo e produzione perché non c'è possibilità di buttare eccesso su un'altra rete questa gestione del mix o fossile tra le energie rinnovabili e il funzionamento dei costi deve aiutare a vedure o fermare totalmente per il periodo della giornata questi gruppi o la notte o la mattina in funzione della taglia e della batteria che si può avere questo vedete la isola francese che è qui vedete molto lunga è la ragione per la quale c'è la distribuzione e mezza tensione su questa isola e questo è l'oggettivo è il tag come si decine di ridurre la bolletta elettrica che è molto cara perché al finale l'agente locale lo sta pagando al stesso prezzo che sul continente però il costo della produzione non è lo stesso il futuro paga la EDF compensa questa differenza che lo faranno noi e i nostri imposti quello sono tutto la sincronizzazione la produzione tutti i target che si hanno fatto però lo più importante è che l'interesse del cliente qui è di arrivare nel 2025 a una isola totalmente a 100% rinnovabili vuol dire che va a impiantare più e più energia rinnovabile però faccia i rubi per fare questo se non mette energia in batteria non ci arriverà ok è lo che lo vediamo a vedere qui dopo sì siamo qui all'inizio siamo su una isola dove 100% della generazione elettrica è fatta parte di gruppi elettrogeni o di gruppo a gas dopo si può fare come lo sapete una penetrazione con le energie rinnovabili come per esempio il fotovoltaico fino a un 30 o 35% della potenza istantanea dei gruppi se andiamo più avanti del 35% c'è un rischio che questi generatori di corrente che sono inverter fotovoltaico fanno arrivare questa corrente sull'alternatore dei gruppi le protezioni salta e c'è un blanca totale della isola a tiri di lì quando si vuole penetrare un po' più vicino dai 50% faccia la generazione dei gruppi sempre funzionale dovete mettere un controllo molto evoluzionato per evitare questi problemi di corrente che ritornano sui gruppi e quando volete andare sopra del 50% qui deve arrivare un primo passaggio con delle batterie e gente che vuole arrivare dopo all'80% o al 100% di energie rinnovabili deve chiaramente introdurre una capacità di stoccaggio elevata per poter al finale fare che i gruppi esistenti dall'inizio sono solo gruppi di soccorso i che non lavorano più lavoreranno solo al giorno che la produzione è veramente brutta o al giorno che c'è un problema sulla generazione a partire dalle batterie delle energie rinnovabili questa transizione si fa non è un sogno si fa chiaramente solo che c'è poca gente che passa di qui a qui in una volta la gente vuole provare vuole verificare e fanno un primo passo con il solare fino a 30% e quando vedi che questo funziona c'è un interesse economico spingono più sulle energie rinnovabili e per lo quale sono obbligato di introdurre la parte del storage questa è la isola vedete che la isola aveva all'inizio tre gruppi l'etrogeno che faceva un totale di un MDE e noi abbiamo inserito lì solo 200 cavia di conversione con più o meno un po' più o meno di 200 kilowattora questa è la distribuzione a 10 kilowatt che va su i clienti e le differenti parte della isola e lì c'era un parque piccolo parque l'isola è piccolina di 90 kilowatt picco siamo all'inizio del concerto loro sono i maestri della rete sono generatori in tensione frequenza che si chiamano rinforini e noi siamo anche dei generatori vuol dire che ci dobbiamo mettere d'accordo se vogliamo lavorare assieme su questa microrete e perché io sono l'elemento che arriva e loro stanno lì come quelli che generava unicamente prima la referenza di tensione di frequenza a partire di qui arriviamo ai sistemi evoluzionati dove siamo capaci di fare una gestione dinamica tra il sistema di storage via un MS esterno via l'intelligenza che ha ogni parte dei sistemi e di stabilizzare la prima cosa è che giocare con la forza la rapidezza e la presenza delle batterie attraverso la conversione per non fare partire un rubo per mezz'ora o per dieci minuti lo facendo lavorare a 20-30% della sua potenza quando ho le batterie disponibili che possono rispondere molto più veloce e non faccio un consumo estupido può dire che già c'è un'ottimizzazione in alcuni periodi dell'anno e della giornata che i due altri gruppi non vanno a lavorare perché effettivamente le batterie potranno sostenere la parte in più della demanda che può arrivare su un tempo e il tempo si definirà in funzione di quello che c'è come capacità nella batteria per gestire dopo fino a qui niente di speciale quello che è molto più interessante è quando facciamo il trasferimento tra loro in ombra vuol dire che lì il sistema di storage passa al master è lui che fissa tensione frequenza angolo di fase e i gruppi elettrogeno che sono 5 volte più potenti di noi ci vanno dietro questa cambia tutte le regole vuol dire che io sono il master e voi che siete i gruppi che facete un mega andate dietro di me attento lì ci sono clienti ma vuol dire che lì si manca l'elettricità dopo i 5 minuti i clienti non sono africani prendono il telefono e mettono un casino nel F non è gente che non c'erano l'elettricità e che arrivano nei paesi di sviluppo vuol dire che lì l'attente dei gente è la stessa qualità che quelle che sono collegate a Milano e a Parigi a partire di lì quello che facciamo facciamo un trasferimento di potenza scusate facciamo un trasferimento di potenza e noi diamo la potenza che i gruppi stanno dando così annuliamo la potenza e lì facciamo un trasferimento e noi passiamo di slave schiavo a maestro e a partire di lì noi siamo in riferimento per tutta la mezza tensione e per la massa fissando qui la distribuzione della tensione e della frequenza dopo cosa facciamo se siamo i maestri e che c'è bastante sole o vento possiamo chiaramente fermare i gruppi perché perché fare funzionare se io sono il referente di tensione e frequenza in questa rete e che ho bastante energia rinnovabile e che ho bastante energia e le mie batterie se posso spegnere totalmente i gruppi di alimentare la isola unicamente con il sistema di storage perché c'è la previsione metodologica e c'è le condizioni per fermare i gruppi e dopo cosa facciamo quando le batterie sono scese sono scaricate o che il sole è andato via a partire di lì lavoriamo la resincronizzazione con la rete senza buchi e senza nessun impatto per il carico faccio vedere per esempio un esempio di integrazione in contenere di queste soluzioni che possono stare all'interno di un edificio o all'interno di un conere questa è la nostra fabbrica dove ci sono i moteletti o i cavoli o i cavoli o i cavoli o i cavoli di dentro ci avete tutto la conversione in questo caso sono due macchine del 200 ci avete il trasformatore per la mezza con la bassa tensione dipendendo dall'estalazione macchine modulare con cassette di 3D3 cavea ognuno dopo ci avete il sistema anche in segno con detezione in estensione in segno per tutto il contenitore il sistema di controllo della microrete con HMI tattile e colore dove si vede tutto quello che sta passando il dinamico sulla microrete le batterie lithium ion al finale in questo caso per mezzo megawattora di batteria più o meno e la distribuzione dei quadri per mettere il parallelo i differenti convertitore e le differenti batterie di questo l'avete tutto per una soluzione ognuno più il trasformatore per una uscita in questo caso a 400 si fanno di 10 piedi 30 piedi fino a 40 piedi secondo la taglia dei progetti adesso faremo la transizione con Pasquale su un'applicazione CNI in Italia chi si è fatto di più è in container vuol dire una installazione collegata alla rete dietro del contatore dell'utente ok si approfittiamo del container per introdurre gli ultimi due temi ma ci arrivo abbastanza velocemente e riguarda un'applicazione on grid realizzate in Italia la prima la realizzazione di un sistema per un edificio industriale un sistema grid all'interno di un container identico a quello che avete visto ma a 10 piedi realizzata per conto di un importante distributore di energia elettrica italiano su un edificio industriale quindi un sistema che va ad assolvere quello che è l'ottimizzazione dell'autoconsumo del fotovoltaico presente sul tetto un fotovoltaico in questo caso non incentivato quindi andiamo con l'ottimizzazione dell'autoconsumo in qualche modo ad ottimizzare anche il costo dell'energia per il sito e a dare sì prego ma guardi meglio che facciamo dopo riusciamo a farlo ci riusciamo no ma tanto dopo siamo sempre noi quindi a 5 minuti del collega siamo a posto non c'è problema è buono dicevo assolve anche a servizi di rete servizi di rete che per ora sono collegati alla cabina autente vedremo chi ha sentito il workshop stamattina se l'autority ci fa fare qualcosa di più magari in aggregazione ecco il sistema da 10 piedi è quello che vedete qui alla vostra sinistra identico ai 20 piedi che avete visto prima l'architettura è la stessa come dicevo prima il servizio principale che va a solvere è quello dell'autoconsumo per cui immaginate la pausa pranzo dell'azienda in quel momento il fotovoltaico è disallineato rispetto al consumo e quindi riusciamo a incamerare quasi 150 kilowattora in un paio d'ore più o meno per poi utilizzarle nelle fasi pomeridiane dove ci sono dei picchi di produzione quindi andiamo a scaricare al momento in cui l'azienda ci chiede un picco che equivale a circa 50-60 kilowatt quindi abbiamo sufficiente energia in quanto poi il sistema è da in totale 280 kilowattora per andare a abbassare i picchi pomeridiani e quindi in generale abbiamo ottimizzato l'autoconsumo ottimizzando anche il costo dell'energia per i clienti che si è risparmiato i picchi che avrebbe dovuto pagare nel pomeriggio vi aggiungo che se magari aveva un problema anche di connessione quindi aveva una potenza limitata in connessione con un sistema del genere avrebbe potuto evitare di cambiare il contratto e di salire di potenza ma con un sistema di mantenersi un po' parti sotto di quello che è l'esigenza effettiva questa qui la possiamo saltare perché l'abbiamo denunciata nei plastici un sistema del genere può dare aggiungo due cose più importanti un sistema on grid per un edificio può anche aumentare l'autonomia generale dell'edificio nel senso che il sistema di storage non è un gruppo di continuità ma potrebbe essere utilizzato come un gruppo di emergenza per cui non garantisce la continuità per esempio per gli servizi tipici che hanno sempre bisogno di un OPS ma con dei tempi leggermente più lunghi sfruttando le potenzialità che avete sentito poc'anzi dal collega applicare quello che è la possibilità di Black Start per poi riprendere nuovamente il carico e alimentarlo esattamente ecco in realtà l'ho portata avanti proprio per racconciare leggermente sono i benefici per i clienti li abbiamo già ben ascoltati le ragioni e benefici che oggi si riescono a trovare in ambito C&I quindi in ambito on-grid per gli edifici industriali sono proprio quelle di ottimizzazione delle fonti rinnovabili su quello che è il consumo della produzione per cui utilizzando un po' anche quella che è la nostra strumentazione per l'efficienza energetica ricavare le curve di carico del cliente e matchabili con le curve di produzione da rinnovabili significa per noi avere tutti i dati necessari per stimare noi o l'energy manager dell'edificio stimare quello che potrebbe essere un impianto di energy storage utile per l'ottimizzazione energetica in generale dell'edificio questo è il collegamento dell'impianto banale in realtà è semplicemente un sistema di generazione bidirezionale collegato da un lato alla rete elettrica nazionale dall'altra parte al fotovoltaico e chiaramente al carico del cliente tutto racchiuso all'interno di un contatto da 10 piedi esternamente per ora non c'è ci sarà un EMS fornita dal distributore che non farà altro ma in realtà che è applicato diventato un sistema di monitoraggio esterno e di connessione remota già il nostro sistema di controllo lo CM cabinet è in grado di performare tutto quello che ci sono detti e come dicevo prima sfruttando poi le potenzialità dei nostri strumenti di misura abbiamo la visibilità di tutti i flussi energetici e quindi tutti i dati che servono all'algoritmo per poi performare l'utilizzazione in questo caso questo è giusto per dare l'idea di come il sistema viene fatto quando diciamo che è un plug and play è un plug and play scaricato così come vedete l'installatore ha connesso il cavi AC è arrivato il nostro tecnico per il commissioning il sistema è finito due giorni di lavoro non di più il terzo e ultimo caso è il sistema di diciamo di supporto alla ricarica ai veicoli elettrici in realtà parliamo esattamente della stessa cosa di prima ecco il sistema che ho messo alla rete che va a assolvere esattamente le stesse cose cioè ottimizza in presenza di fotovoltaico ottimizza l'autoconsumo e fa anche una gestione di emissione reattiva di reattiva verso la rete che è un danno collaterale di alcuni tipi di colonnine veloci per via della modulazione dell'inverter che utilizzano all'interno però prevalentemente sono impianti connessi alla rete che vanno a ottimizzare in qualche modo l'autoconsumo e a fare del peak sharing di fatti uno dei problemi che si ha sulla ricarica è la disponibilità di potenza al nodo di allaccio in caso di contemporaneità di ricarica quindi nelle prime fasi di ricarica è importante avere un sistema di storage carico per fare un taglio dei picchi e evitare che il sistema vada in crisi sul modo di connessione dell'inverterio nella fattispecie con questo è il sistema così come connesso cambia leggermente ma in realtà identico al primo due batterie convertitori connessi su bassa C sistema di misura per l'analisi energetica del sito l'unica differenza è che il carico non è un'industria ma è una colonia di ricarica quindi abbiamo semplicemente portato l'esperienza con Grint che facciamo normalmente sul building su un sistema di ricarica ecco qualche foto per mostrarvi quello che è venuto fuori è un sistema da 132 kW a un centinaio di kWh come dicevo prima è utilizzato per il taglio di picchi e la massimizzazione del fotovoltaico che è sopra questa pensilina l'osservazione il pensiero che vi lascio è in aree urbane quando ci saranno molti veicoli elettrici molto probabilmente bisognerà adottare degli stratagelli per consentire la ricarica contemporanea di questi veicoli che è assolutamente qualcosa di possibile in fin dei conti al distributore ci incontriamo spesso tutti insieme non è che evalui e poi questo rapporto è tutto quindi spazio a qualche domanda abbiamo 5 minuti senza